altri autori autori fantastici che hanno descritto secondo me pienamente com'è un pochettino questo mese questo mese un po un mese di passaggio tra appunto l'estate e l'autunno e come il sole è un brano che sta a a significare proprio questo vorrei che il brano rimandasse a quelle che sono state le serate durante quest'estate quelle che si sono potute fare ovviamente dato sempre la presenza del covid e l'inizio di questo autunno l'inizio dove comunque si ritorna al freddo si ritorna magari a rinchiudersi nell'ufficio dove si lavora accendere l'area l'aria calda perché sia freddo però nelle cuffiette avere come il sole lavorare nel frattempo pensare a l'estate che hai passato pensare a tutte le esperienze che hai fatto pensare a quello che è passato magari con gli amici piuttosto che con le persone vicine a te io ho fatto questo lavoro qua finito il pezzo l'ho ascoltato mi sono messo le cuffiette in questi ultimi giorni qua e ho pensato a quello che ho passato quest'estate è stata un'estate di passaggio da un periodo un po buio dove ero triste riguardo al lockdown a quest'estate che mi ha un pochettino tirato sul morale un po anche perché le persone che mi sono state vicine hanno avuto la forza di la bravura di farlo come ad esempio la mia famiglia mia madre mio padre mia sorella mia nonna e soprattutto la mia ragazza che mi aiuta e mi ha aiutato tantissimo in questo percorso amici lo stesso castro caro quindi insomma mi sono messo le cuffiette ho pensato proprio alla fortuna che ho di aver passato quei momenti con quelle determinate persone particolare particolare perché è un è un mago cioè avere cioè avere la possibilità di collaborare lavorare con una persona del genere fantastico semplicemente per il fatto che comunque ha preso un brano e lo ha stravolto ma stravolto nel senso che lo ascolti ti riempie proprio il petto di 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 musica perché è fantastico mi è arrivato il provino del pezzo semplicemente su un piano forte e una voce quindi e ho detto appena l'ho ascoltato finito detto cavolo mai mi sarei immaginato che lo avrebbe trasformato in qualcosa di così bello già era bello di suo in più col suo tocco è stato bellissimo lavorare con persone del genere dove mettono cuore anima in quello che fanno è fantastico come del resto ha fatto e farà sicuramente michele sempre le emozioni e le sensazioni chiamiamole come come si vuole sono sempre le stesse è il mio primo ep della mia vita cioè io ho visto su itunes su spotify una mia foto e che se ci schiacciavi sopra uscivano dei brani ed è un'emozione pazzesca cioè ogni volta che cercherò jacopo su youtube piuttosto che su spotify piuttosto che su itunes vedrò sempre quella foto e mi rimanderà sempre a quelle sensazioni ovvero la prima volta che ho scritto dei ringraziamenti per un mio per un mio ep la prima volta che ho fatto uno shooting per far sì che il mio ep alla copertina sono tutte sensazioni che ogni volta che ne parlo mi rimandano sempre a quel momento lì dalla mia vita ed è bellissimo il bilancio è sempre sarà sempre positivo anche se me lo chiederete tra dieci quindici anni io mi ricorderò sempre di quel momento in cui aprivo spotify e sentivo le mie canzoni ed è fantastico volente volente in qualsiasi cosa tutti ci menti impari impari dei professionisti impari da persone come te che provano a trasformare la musica in lavoro impari dappertutto io sono una spugna fondamentalmente io ascolto e guardo tanto e poi provo capisco quello che ovviamente serve a me e lo metto in pratica in quello che faccio io è stata un'esperienza bellissima anche quella ho avuto la fortuna di condividerla con un ragazzo con stefano cui abbiamo fatto amici ci siamo divertiti tantissimo mi sono divertito tantissimo c'è stata competizione ovviamente come c'è stato in amici una competizione come un altro programma sana si respirava questa aria però ovviamente tutti avevano voglia di vincere io avevo voglia di vincere purtroppo non ho vinto ma ho vinto in un altro modo mi sono fatto comunque conoscere anche a castrocaro ho avuto la fortuna di avere delle persone che mi ascoltassero di presenti fisiche quindi è stato bello anche per quello ce n'erano poche purtroppo per la situazione sanitaria che abbiamo ma c'erano e questo è importante anche un un messaggio che comunque se seguiamo tanto le gli ordini perché sono ordini giustamente che ci danno si fa qualcosa si riesce a fare qualcosa perché non si riesce ancora a fare dei concertoni ma un po di persone possono venire ad ascoltarti in in una piazza piuttosto che in un bar piuttosto che da qualche parte con tutte le precauzioni del caso però finalmente si può quindi se piano piano noi capiamo che bisogna stare attenti ritorneremo a vederci su un palco piuttosto che a cantare assieme piuttosto che a parlare semplicemente come stiamo facendo ora il proposito c'è devo essere sincero ci sto pensando tanto sto pensando anche a provare a scrivere un brano io avevo in cantiere dei brani dei brani un brano con una ragazza che ha fatto il programma insieme a me che è niv e che spero vivamente di vedere al più presto possibile per lavorare continuare a lavorare questo brano e finirlo perché secondo me è molto bello e spero di riuscire a scrivere qualcosa anche da solo perché pur avendo 21 anni ho da dire tante cose e passo dopo passo magari un pezzo scritto da me un pezzo scritto finito questo qua con niv altri autori magari insieme ad altri autori che mi insegneranno spero a scrivere perché devo imparare voglio imparare e sono curioso di sapere come si fa e step by step vorrei creare poi un album finalmente da poter fare uscire e dire ok ho fatto l'epì ho fatto il singolo adesso finalmente uscito anche il mio album è un'altra soddisfazione da aggiungere in bacheca quindi mi raccomando tenetevi pronti e orecchie aperte che non si sa mai ciao 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 ciao